buongiorno amici e amiche buon mercoledì 25 novembre 2020 ascoltiamo e commentiamo il vangelo secondo luca capitolo 21 versetti 12 19 in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoge e alle prigioni trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome avrete allora occasione di dare testimonianza mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa io vi darò parola e sapienza cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere sarete traditi perfino dai genitori dai fratelli dai parenti dagli amici e uccideranno alcuni di voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto con la vostra perseveranza salverete la vostra vita non so a voi ma a me questa parola di oggi infonde una fiducia e un coraggio mi sento davvero accompagnato dal signore sia nel fatto che lui ci dice che sarà sempre al nostro fianco sia perché ci rassicura che sarà lui stesso a parlare e agire attraverso di noi non dobbiamo preoccuparci veramente di niente io gli credo non senza cognizione di causa anzi sempre il signore ogni volta che devo fare una scelta importante nella mia vita o devo affrontare certe situazioni mi ha sempre rassicurato facendomi tornare alla mente questo vangelo lui è l'emmanuele il Dio con noi cioè è con noi sempre ecco perché abbiamo il dovere di vivere la storia ogni momento è opportuno per dire con la vita che amare fino alla fine non è una perdita di tempo e allora facciamo da parte il nostro orgoglio i nostri sentimenti per fare spazio a Dio coraggio ogni volta che devi dire o fare qualcosa invoca lo spirito santo buona giornata a tutti